Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi è mercoledì e come ti consueto andiamo a rispondere alle vostre domande in questo o quello siamo arrivati ormai all'episodio 3, sono contento di come insomma vi stia piacendo questa sera sempre un sacco, un sacco, un sacco di commenti sotto ogni video quindi sono molto soddisfatto di questa cosa, quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo subito a vedere i commenti dello scorso episodio visto che come al solito sarà un video un po' più lunghetto per cercare di rispondere a quante più domande è possibile eccoci dunque qua sulla schermata, ho anche colto il vostro suggerimento di andare a ingrandire un po' il testo e abbiamo subito il buon Andrea che ci chiede a centrocampo hai fatto Jones e lo stai giocando con Renato If, vorrei prendere Bruno If al posto di Renato, faccio bene o no? poi in difesa è Varane non scambiabile e Van Dijk non scambiabile, però Van Dijk non ti ha convinto, subisce troppo la velocità e vorrei cambiarlo con James e switch all'Odc assolutamente sì Andrea, per quanto riguarda la situazione difensiva prende assolutamente James e switch all'Odc mentre per quanto riguarda il centrocampo Jones è già un centrocampista un po' più offensivo diciamo alla Bruno quindi io preferisco poi un Renato che è maggior difensivo rispetto a un Bruno If, quindi ti direi di rimanere con Jones e Renatino Marco Pumo o Eto' Mbappé, Neymar e Best? nel 4-2-2 è molto semplice, basta andare a mettere Neymar e Mbappé da punte con Eto' e Best invece larghi poi abbiamo Lorenzo Sandrelli che ci chiede se si vuole costruire una nuova squadra è meglio puntare su Ronaldo, Mbappé o Neymar io continuo a pensare che Ronaldo abbia qualcosa in più al secondo posto Neymar o al terzo Mbappé Massimo ci chiede, meglio Cucurella a 7 o Kanté affiangati a Blank? ti direi il buon Cucurella che ho avuto modo di provare, giocatore veramente pazzesco e poi tra Mendy a 7 centrale e Fofana la mia scelta ricade su Mendy a 7 Simone Tommassini, ho trovato sia Maldini Baby che Mid non scambiabili Maldini Baby lo giocherai TS con Vidic e Varane in difesa e Soboslai a 8 mentre il Mid lo giocherai DC con Mendy e Bamba meglio la difesa Maldini Baby, Vidic, Varane con Soboslai o Mendy, Maldini Mid e Varane io ti dico la seconda, quella con Maldini Mid perché Maldini TS è spostato DC forte ma non così tanto rispetto al Mid che invece è devastante poi TSK Bouglir con Kanté, Kanté, Bappene, Mar e Kuluseski chi schieropunta e chi esterno nel 4-4-2 anche qua molto semplice, Bappene, Mar punta, Kanté, Kuluseski esterni visto che Kanté è un po' un tronco sotto questo punto di vista Giulio chiede, ho Kanté a centrocampo e Varane e Vandic in difesa con chi li cambio più di essere il centrocampista serve francese mentre in difesa tutto va bene beh, allora, senza limiti di budget ti direi di togliere Van Dijk con un Volkerif o un James spostato mentre per quanto riguarda Kanté, se vuoi proprio andarlo a sostituire o ti vai a prendere Camavinga visto che come centrocampisti francesi questo mi viene in mente o se no un Icon alla Blanc il buon mago Sorbo ci chiede ti consiglio di tenere Varane di C o mettere Theo Headliner con Dalot a sinistra ma onestamente se poi quel Theo Headliner in particolar modo va a fare il difensore centrale ti direi di mettere Theo e Dalot poi lo lasci terzino abbiamo poi il buon Andrea di G99 che ci chiede miglior seconda punta Icon Eusebio Puskas che costa un milione in meno tutta la vita Eusebio che ha 5 piedi debole rispetto al buon Puskas che ne ha 3 e quindi è un po' ambivo Marco 33 meglio Cacao Dalglish come C o C alternative sul milione e mezzo guarda per me l'alternativa sul milione e mezzo è sempre Neymar cioè nel senso non si passa davanti l'unico C o C più forte di Neymar diventa Cruyff tra KK e Dalglish ti dico sicuramente KK visto che Dalglish non è che abbia questi gran passaggi e deve fare semplicemente la punta abbiamo poi Stefano Azalin Arnold 88 non scambiabile può fare il TD di Inka Rashford altrimenti in quale ruolo ti consiglio di usarlo o non usarlo guarda onestamente non è una carta per cui farei follie nel senso per fare il terzino non è che sia proprio questa gran rapidità al massimo potresti provarlo a centrocampo ma più da super sub che da titolare Chris 10 come centrocampo nel rombo meglio Gima Rice con Marcos Siff e Pogba 88 o Gima Rice con Bruno Pogba ti dico tutta la vita i primi 3 sotto questo punto di vista e il Sharawi con Rashford base come ATT e Stefano ovviamente ti dico il Sharawi visto che ormai Rashford si è fatto un po' antico ai Blanca Baby e Matao Smith non scambiabili e anche Bruno Potman nel caso non ti trovo bene con il rombo ci sta a mettere uno tra Mataos e Blank DC assolutamente sì e ti dico di mettere Mataos che comunque magari puoi testarlo Blank è troppo tronco per poter fare il DC però in quel caso potresti anche pensare a una difesa 5 in cui andare a inserire Mataos Lupo Jason del Piero Baby Cristiano Mbappé Neymar in un 4-2-3-1 ti dico di metro 20 Cristiano punta con del Piero C e C Mbappé Neymar larghi in un 4-4-2 metti Cristiano Neymar punta con del Piero e Mbappé larghi abbiamo poi Stefano che ci chiede ancora Bastoni Occhiellini e ti dico Bastoni Leonardo conviene mettere T85 al posto di Hakuna oppure tenere i crediti e prendere Mbappé al posto di Fekir tutta la vita tenere i crediti e prendere Mbappé al posto di Fekir non c'è proprio dubbio Tony Tony Modestino Dembele 85 del Pass ci consiglia di provarlo lo faremo sicuramente visto che ci poteva stare Riccardo chiede Mbappé Neymar Cristiano e Maradona nel 4-2-3-1 nel 4-4-2 nel 4-2-3-1 metti Cristiano punta con Neymar Mbappé larghi e Maradona C e C nel 4-4-2 metti Cristiano Neymar punta Mbappé e Maradona larghi in mediana ti dico meglio la coppia Bruno e Kimmich anche per quello che è un po' il rapporto qualità-prezzo un Cdc che sappia difendere e posizionarsi come contema sappia passare meglio ti dico il buon Renatino Sanchez Alex ci chiede secondo te è meglio Maldini Baby o Blank Mid ovviamente a pieni entesi entrambi poi meglio Bruno o Cucurella ma se hai se hai la possibilità di scegliere 30 ambi non scambiabili prova lì forse di Bruno 89 quel Cucurella potrebbe essere tranquillamente molto valido mentre per quanto riguarda Maldini Baby o Blank Mid ti dico tutta la vita Blank Mid Gullit ovvero Prime accanto a Mataus Mid tutta la vita il buon Gullit Simone chiede Maldini a 6 Clabber a 10 o Teo a 10 come DC tutta la vita Teo mentre per quanto riguarda centrocampo ti dico Sanchez Bruno Pot che è il centrocampo che ho avuto io pure per un bel po' Dark Side quando si è in corsa con il DC a fianco e solo il portiere davanti come conviene comportarsi qualche skill utile per non finire al portiere e tirare male semplicemente la suola per cercare di mandare a vuoto il portiere oppure puoi fare la suola più la finta di tiro con i 5 skill per allargarti e calciare un tacco tacco queste sono le cose onestamente che puoi andare a fare o anche una finta di tiro per fermarti disorientare il difensore spostarti e calciare direttamente 5-2-1-2 mediana Canteblank troppo difensiva assolutamente no ci sta è in difesa che invece switchi Teo con Maldini Baby che fa il DC insieme a tutti poi faranno il quadrato meglio cambiare no hai un'ottima un'ottima difesa Davide sotto questo punto di vista meglio Cantona Ronaldo Baby ti dico da punta Ronaldo Baby per tutto il resto Cantona come reputi il 3-5-2 guarda il 3-5-2 Francesco è un bel modulo probabilmente infatti arriverà anche un video sul canale prossimamente perché devo un attimino analizzarlo perché ci ho perso stasettimana in weekend league che mi sembrava veramente un un giocatore un modulo molto molto pesante da superare quindi ti dico sicuramente sì mentre per quanto riguarda gli esterni da utilizzare in questo modulo bene o male sono sempre i stessi devono essere esterni possibilmente con il 5 di skill rapidi che passino bene il pallone e che abbiano anche la licenza di andare a insomma offendere al momento necessario Lorenzo chiede Bella Ribe Gomez si fa 10 o James come difensore centrale vai di James a 7 che sto usando pure io ha senso spendere un milione e 6 su Garrincia a squadra completa o vai su Lozano o Kuluseschi guarda se come dici tu la squadra è completa vai su Kuluseschi cioè vai su Garrincia se invece devi migliorare magari altri reparti prendi Kuluseschi che sto usando anche io ed è veramente molto forte allora Andrea Celestino invece ci chiede con 2 milioni e 6 di budget Tom Mead io no tra questi ti direi di aspettare o di prendere un Cruif o piuttosto di andare su un Darkish Baby molto più cheap ma che è anche il 5 di piede debole Cantona Mid e Depay Pick ti dico se ti serve una coppia di attacco Angelo se è un po' pesante perché Cantona non è che sia molto agile e il Pesciolino Depay si non c'è male però comunque c'ha pure i 3 di piede debole quindi è una coppia che ha un po' di lacune Giulio chiede miglior ruolo per Neymar nel 4-2-3-1 ovviamente il COC Nicolò meglio di Bala Base o Lautaro If ti dico Lautaro If prima di uppare Lozano Si Fakulu o Ronaldo Base al posto di Muriel vai tutta la vita su Ronaldo Alessandro Antonio chiede come DC meglio Alaba Road to the Final o Teo 86 entrambi non scambiabili ti dico tutta la vita il buon Teo bisogna vedere come sarà l'upgrade di Alaba Ulo del Sium esterno che fa terzino Cancelo 85 che usi anche tu guarda esterni che fanno i terzini c'è anche magari quella chimica che potresti pensare utilizzare terzino però non ce ne sono tanti di ruolo insomma potenti sotto questo punto di vista come ATT come metteresti in ordine Neymar Base Mbappé Cristiano Lautaro e Tuno dovrei utilizzare due tra questi senza badare a spese ma guarda ti dico tutta la vita Cristiano Neymar Mbappé Tuno Lautaro quindi andare su Cristiano Neymar allora un buon Marco intanto ci dice che aveva optato su James come gli avevamo consigliato tra Hernandez e Mendy vai tutta la vita su Hernandez che è più fisico Yasso chiede trovate Torris Prime ovviamente se lo devi utilizzare utilizzalo da punta Jacopo Zanella in mediana hai un 4-4-2 con Bruno e Renato hai trovato Seedorf se alzargi una mediana Bruno e Renato e vendi Renato lo puoi fare assolutamente sì alla peggio prima di vendere Renato usa Seedorf vedi se effettivamente ti piace altrimenti poi lo vai effettivamente a rivendere abbiamo poi Paolo che ci chiede Fofanag Gomez o Van Dijk in coppia con Varane ti dico di provare quel Fofanag gratuito altrimenti vai su Gomez perché Van Dijk a me per la lentezza non piace The Dark Air richiede nel gameplay attuale è meglio utilizzare una difesa a 4 di Sally Varane oppure Walker 85 insieme a Varane ti dico Walker 85 insieme al al buon Varane Simone chiede a TTT da affiancare a Pele Baby con un budget di 500k non ho mai specificato il campionato però anche lì o mi attendi un buffet che comunque poco in più costa o se no andrei magari su un big header Luca D'Ambrosio secondo i Rashford if vale la differenza ai credit di credit che c'è col base usato esterno assolutamente sì e il Leaf già inizia a essere una carta un po' migliore rispetto all'esterno Tommy Mastroleo meglio Adama a 7 di Cico De Gameport o Gio Gomez a 10 con Pope ti dico tutta la vita Gio Gomez con Pope Carmadonna Bella Ribe avendo in un 4-4-2 Dalglish Baby e Cristiano vale la pena spendere i milioni per le ali o può gradare Cristiano all'IF guarda ti dico vai prima su Cristiano all'IF perché Cristiano base inizia a fare un po' di fatica però poi magari le ali rinforziamole Pat Giorgio copia di centrocampo meglio Gimaraes e Awar o Gimaraes e Fabregas tutta la vita Gimaraes e Awar quel Fabregas lì purtroppo non può circolare più di tanto meglio messi base o Mané da esterno ti dico vai di Mané tutta la vita DC meglio Fofana Ruben Dias Fofana perché è anche gratuito e chi affianca come portiere il sempreverde Erola che uso anche io per me è devastante una punta Icon ATT con 5 milioni vai tutta la vita su un Eusebio Mid o se riesci magari su un Pele Baby vicino a Bruno Pot meglio Kanté o Pogba Europa League non scambiabile prova Pogba ragazzi se avete le carte non scambiabili provatele vedi come ti trovi se vedi che è troppo offensivo ripiega su Bruno Giuseppe chiede meglio Crespo Prime Torres Mid ti dico tra quei due sicuramente meglio Crespo ci uccide la Serie A oltre il Papu Gomez base puoi optare magari per un Dybala puoi anche utilizzare questo Sharawi che è uscito ora la SBC trovato Kakababy dalle swap puoi utilizzarlo da esterno non c'è male Ayoto Baby del Piero Baby Neymar mi appena attacco in un modulo a due punte metti Neymar e Mbappé punta e gli altri due le metti esterno Romagnoli e Diogo Dalotto sono competitivi Romagnoli non più di tanto Dalotto è molto forte lo puoi anche spostare difensore centrale in game tanta tanta roba quindi magari puoi mettere Hernandez a 7 e poi sposti Dalotto DC oppure Hernandez DC meglio Cruif Ronaldinho ti dico Cruif visto che c'è pure il 5 piede debole in Bertone Raoli Pelé 95 Ronaldinho da punta C o C tutta la vita a Sto Pelé che quest'anno è veramente un giocatorone Nick Black Mamba che nel 4-4-2 a fianco a Kanté meglio Renato If o Bruno tutta la vita Renato If perché Bruno dal 90 e poi lo inizio a trastare parecchio Leonardo meglio Mediana Kanté Jones vicino a Bruno cura la sbloccare per usarlo sub assolutamente sì e invece vicino a Bruno ci metterei quel Jones A Neymar Rashford UCL Mbappé Mane meglio Rashford a sinistra ma a destra Mbappé a Neymar a TT o qualcosa di diverso no Marco hai esattamente colto il segno quindi procedi così come uscire dal pressing intanto ci consigliano un video che potremmo sicuramente fare meglio Adama DC o Mendy DC ti dico Mendy mi piace di più io Adama l'ho trovato un po' troppo indisciplinato per usarlo DC meglio fare un upgrade di Renato da IF all'Europa o Varanda al base all'UCL tutta la vita Varanda io sto usando il base e mi sta facendo urlare ultimamente c'è tanta differenza tra Ronaldo e il SIF sì il SIF è più agile finalizza meglio col sinistro Peleo è il fenomeno tutta la vita è il fenomeno Bruno Chimara e Renato ti dico Renatino che è più completo e l'ultima domanda di oggi JKG ci chiede come DC chi mette tra Teo Headliner Adama e Tavernier vicino a Stone si dico vai di Teo come S meglio Mané e Kanté vicino a Bruno Tonali e Delsha guarda ti dico probabilmente di andare con Mané Kanté però Tonali e Delsha non sono da sottovalutare quindi potresti anche andarle a provare visto che ce li hai non scambiabili e nulla ragazzi anche per oggi questo appuntamento con questo e quello finisce qui noi ci vediamo domani con un nuovo video tutti i giorni live info in descrizione sulla piattaforma Viola vi ricordo di lasciare un like e un commento iscrivetevi al canale un saluto al vostro e buona giornata ciao raga